Da giugno dello scorso anno è in vigore un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che definisce un sistema di verifica della congruità fra valore dell'opera e percentuale di incidenza minima della manodopera impiegata nella realizzazione di un lavoro edilizio. Se un'impresa edile si aggiudica un lavoro da qualche milione di euro, in quel cantiere risultano al lavoro poche persone, quasi sicuramente c'è qualcosa che non va. Del decreto, frutto dell'accordo collettivo di settembre del 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative del settore edile, si è parlato nel corso di un incontro organizzato a Bari da Edicassa di Puglia, con l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bari, il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari Aldomoro e l'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro di Bari. Sicuramente questo decreto firmato a giugno dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avviato la volontà delle parti sociali con l'accordo del 10 settembre 2020. È un sistema di verifica dell'incidenza del costo della manodopera sui cantieri edili, soprattutto tutti i cantieri pubblici e quelli privati, con importo pari o superiore ai 70.000 euro. È uno strumento che è stato accolto con entusiasmo dalle imprese virtuose, dalle imprese in regola e da tutti gli addetti ai lavori. Ovviamente la lotta è al dumping contrattuale, all'emersione del lavoro nero. La verifica di congruità può rappresentare una vera svolta nel settore e si applica a tutti i lavori pubblici e privati. L'importo pari o superiore ai 70.000 euro, spiega il Presidente di Edilcassa Puglia, Luigi Cosimo 40, e va nella direzione del contrasto al lavoro nero e regolare. Diciamo che questo è stato fatto proprio per questo motivo, perché inizialmente il problema che si poneva, che tutti i cantieri che venivano dati, la maggior parte delle volte, iniziavano a fare questi lavori in prese che non avevano neanche dipendenti. Allora ci siamo posti come parti sociali a livello nazionale di mettere a punto la congruità che mettesse un giusto rapporto tra l'importo dei lavori e i lavoratori impiegati, perché era impossibile che un immobiliare con un dipendente potesse prendere lavori di milioni di euro e quindi siamo detti che cominciamo a dare una giusta relazione tra lavoro, dato e i lavoratori impiegati. Ecco perché la congruità, proprio la parola stessa lo dice, è per far emergere i lavoratori in nero. Ci aspettiamo risvolti positivi anche perché diciamo che l'importi parte da 70.000 in su, come dice anche la normativa. Quindi le risposte cominciano un po' a capirlo, anche perché oggi proprio il convegno è indirizzato ai consulenti del lavoro, che sono poi quelli che dovrebbero in teoria fare l'inizio dei lavori, i cantieri e quant'altro. Sono loro poi che spingono le imprese affinché questo meccanismo funzioni. Ma quali sono le aspettative rispetto al settore? Devo dire che siamo ottimisti perché la prima risposta dell'impresa è assolutamente positiva. Le aziende virtuose, le aziende sane, le aziende che vogliono stare nel mercato con regolarità, hanno capito lo spirito e l'intento voluto dalle parti sociali nel sponsorizzare e voler fortemente la congruità. Perché la congruità elimina molti di quegli elementi distorsivi del mercato, elimina un dumping contrattuale e fa sì che le aziende sane, quelle che applicano i contratti, rispettano le regole, abbiano una concorrenza sleale in meno.